8 Bianchi del Colio 8 Bianchi del Colio sposano altrettanti artisti di Gorizia e della Slovenia. Da questo perfetto connubio, che vuole celebrare l'eccellenza del territorio nel campo della produzione vitivinicola e artistica, nasce Bianco d'autore. In ciascun mese, da maggio a dicembre, sarà proposta un'esposizione abbinata alla degustazione di vino, che rimarrà poi in mescita insieme all'allestimento. Un modo per dare al territorio e alle persone che quel territorio abitano la possibilità di proporsi, valorizzando le ricchezze del nostro territorio. Il 5 maggio è la prima data, poi il 9 giugno, il 14 luglio, il 4 agosto, il 1 settembre, il 6 ottobre, il 3 novembre e infine il 1 dicembre 2010. Bianco d'autore è un'iniziativa che nasce dall'imprenditoria privata, dalla trattoria Luca insieme agli artisti del nostro territorio, che vuole presentare in diverse cantine del Coglio, in particolar modo della zona di San Floriano, i quadri dei nostri autori. Ma questo si inserisce in un progetto più ampio, che è il Coglio Un Paesaggio da Bere, quindi piste ciclabili finanziate dalla Regione, Camera di Commercio e realizzate dalla provincia di Gorizia, che però non sono solo piste, ma deve essere appunto la promozione di un intero territorio. Da qui l'importanza di iniziative come queste, in cui il pubblico e il privato lavorano insieme.